Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi in questo video parleremo di come poter utilizzare un multimetro. Ovviamente non potevo non portare nel canale una tipologia di video del genere in quanto trattando di comunque elettronica ovviamente spesso mi vedete fare anche delle misurazioni però non avevo mai effettuato un video in cui facevo vedere in effetti come utilizzare un multimetro. Allora in rete ovviamente ci sono tanti video del genere io ovviamente vi darò la mia la mia versione spero di darvi delle informazioni maggiori o comunque di riuscire a spiegare in modo molto semplice come utilizzare questa strumentazione. Allora cos'è prima di tutto un multimetro? Lo dice la parola stessa è un qualcosa uno strumento che fa multi misure quindi permette di effettuare varie misure sia elettriche ed elettroniche prevalentemente. In passato ovviamente esistevano esisteva una strumentazione prevalentemente analogica come vedete qui questi qui sono dei multimetri o comunque dei tech classici tester digitali. Con l'avvento diciamo dell'elettronica digitale si è potuto inglobare in un unico strumento ad esempio quello che si doveva fare in precedenza con tanti strumenti ad esempio per il calcolo della resistenza si aveva la necessità di avere una strumentazione analogica per il calcolo della ad esempio della corrente della tensione per dicendo quindi con l'avvento dell'elettronica digitale si è riuscito a ricompattare l'elettronica quindi a compattare il tutto in un unico strumento quindi riepilogando è una strumentazione che permette di effettuare varie misure di varie componentistica elettronica o comunque varie misure elettriche o elettroniche. Qui potete vedere alcune versioni che vanno da pochi euro a una decina di euro fino ad arrivare a strumentazione un pochino più complessa. In funzione ovviamente del prezzo dell'investimento che uno va a fare ha la possibilità di avere una misura, un'accuratezza maggiore nelle misurazioni e ovviamente avere delle misure migliori o comunque maggiori rispetto ad esempio a un multimetro più economico dipende da cosa dovete farne ovviamente sia la necessità di acquistare lo strumento giusto. Ad esempio questo qui è di pochi euro e permette di fare varie misurazioni pur essendo di pochi euro comunque ha una buona affidabilità però in questo caso come vedremo alcune misurazioni non sono possibili farle cosa che è possibile fare ad esempio tranquillamente prendendo una classe maggiore ad esempio questo qui può venire un 10 euro già questo qui è venuto sulle 30 40 euro quindi facendo un salto di prezzo più o meno abbastanza rilevante quindi dai 10 a passare ai 30 40 euro ci permette di avere prima di tutto un'affidabilità migliore nelle misurazioni ovviamente più precise soprattutto misurazione dal punto di vista elettronico permette di avere nello stesso strumento più funzioni che adesso vedremo e in più permette di avere una sicurezza maggiore perché comunque più lo strumento è professionale più ci permette di avere una sicurezza in più dal punto di vista dell'isolamento elettrico e anche comunque delle diciamo nell'avere un errore minore nella misurazione questa qui è invece una tipologia di tester con pinza amperometrica e viene utilizzata è molto più costosa rispetto a questi due multimetri qua pur avendo meno diciamo meno impostazioni però è di livello un pochino più alto e professionale però questo qui viene utilizzato di solito prevalentemente per misure elettriche invece questi qui magari sono più utili per misure elettroniche adesso passiamo ad analizzare ad esempio questo qui va bene evito di analizzarlo ci concentreremo su queste due versioni per le misurazioni elettroniche l'avete visto in tanti video vi illustrerò le potenzialità di questa tipologia di multimetro che è comunque accessibile a tutti ripeto sarà costato da 30 40 euro quindi con una piccola spesa si riesce tranquillamente ad effettuare tutte le misure possibili attualmente in commercio ho visto che esistono dei multimetri che hanno inglobato un oscilloscopio quindi avranno un monitor un pochino più grande che permette di effettuare in real time di visualizzare sul display l'andamento di alcuni segnali quale potrebbero essere ad esempio visualizzare l'onda sinusidale della nostra rete e vari segnali cosa che ovviamente non è possibile con questa strumentazione qua in quanto ovviamente solo di misura non ha inglobato un oscilloscopio magari quello lì sarà oggetto o intenzione di valutare un acquisto non è non costa nemmeno tanto magari successivamente lo porterò sul canale adesso passiamo con l'illustrare questa tipologia qua questo multimetro qua ed evidenziare le sue potenzialità e le misure che si possano effettuare allora prima di entrare nel vivo delle misurazioni analizzeremo i due multimetri e vedremo cosa è possibile effettuare allora prima di tutto come è composto un multimetro ovviamente una parte relativa alla visualizzazione dei nostri valori quindi un display che può ovviamente variare da dispositivo e diciamo le parti fondamentali sono quindi il display un eventuale tasto di accensione on off in questo caso a un power off un auto power off cosa significa dopo per risparmiare la batteria questo strumento qua dopo un tot di tempo che non viene effettuata nessuna variazione il dispositivo si spegne per risparmiare la batteria ovviamente presente un selettore rotativo che permette di effettuare le varie impostazioni in funzione delle misure che dobbiamo fare ovviamente le parti principali sono come ho detto il display il selettore e ovviamente gli ingressi in questo caso sono presenti ovviamente gli ingressi principali di solito sono quelle dove vengono inseriti i puntali però come vedete qui sono presenti altri ingressi che adesso vi illustrerò quindi quelli che in genere si trovano come potete vedere qua ad esempio sono quelli relativi ai due puntali puntale rosso e puntale nero che servono che vanno inseriti in funzione della misurazione che dobbiamo fare nell'apposito ingresso questo ingresso qua questo ultimo tra quale ha quattro predisposizioni per per l'inserimento del dei vari puntali ad esempio il nero ovviamente il puntale nero va inserito sempre nella porta com quello che va andrà a variare è praticamente il puntale rosso perché in funzione di quello che dovremo misurare ovviamente andrà spostato nella nella relativa boccola di ingresso in questo caso avremo una porta di ingresso 10 ampere con una protezione praticamente allora questa protezione qua di 10 ampere non è presente un fusibile viene gestita viene utilizzata per la misura diretta e comunque vedremo successivamente nella corrente poi comunque entrano nei dettagli più avanti successivamente qui possiamo notare un altro ingresso relativo alla misurazione della corrente però per correnti molto più piccolo ovvero milli ampere questa qua queste sono per corrente di portata fino a 10 ampere qua per correnti di portata fino ai milli ampere 200 milli ampere in questo caso dice che questo ingresso qua è fornito di una protezione confusibile invece questa qui ovviamente quella in comune chiamata com ed è relativa al morsetto al scusate al puntale nero l'ultimo che di solito è quello più utilizzato permette una misurazione praticamente di tensione v resistenza hertz e quindi la frequenza quindi poi possiamo notare in questo determinato multimetro questo ingresso qua chiamato temp praticamente questa strumentazione qua permette di inserire una termocoppia in questi due ingressi e monitorare una determinata temperatura in più è presente un ingresso relativo alla misura dei condensatori un invece un altro ingresso relativo alla misurazione del guadagno di vari transistor bgt pnp ed npn quindi dopo aver identificato che tipologia di transistor si inseriscono i piedini all'interno di questi di questi ingressi qua è ovviamente darà una stima in funzione anche dei parametri che troveremo ovviamente nel libretto ci darà una stima del guadagno di quel determinato transistor quindi come potete vedere permette di fare varie misurazioni ad esempio sul selettore è possibile misurare la continuità di un determinato conduttore è possibile misurare la caduta su un diodo quindi se un diodo conduce o meno è possibile misurare ve le dico progressivamente come sono presenti sul selettore è possibile misurare delle resistenze con una portata che vanno da 200 ohm fino a 200 mega ohm hfe è relativa alla misurazione quindi mettendo il selettore su hfe io selezionerò questa sezione qua e praticamente riuscirò a rilevare il guadagno il guadagno di quel determinato transistor ovviamente permette di fare misurazioni in tensione tensione che vanno in questo caso tensione continua da 200 mille ampere fino a mille volt scusate da 200 mille volt fino a mille volt invece per tensioni in corrente alternata quindi v con questo questa diciamo onda identifica che sono misurazione di tensioni alternate che praticamente con una portata dai 2 e 700 volt in corrente alternata permette di selezionare la temperatura quindi la termocoppia inserita qui e misurare la temperatura qui su 20 kHz è possibile misurare la frequenza quindi segnali fino a un 20 20 kHz e qui come ultimo abbiamo comunque no come ultimo scusate in questa sezione qua possiamo selezionare la misurazione dei condensatori tutto quello che noi andremo inserire i due piedini in questi due ingressi potremo misurare dei condensatori che vanno da 2 nanofarad a 20 microfarad ovviamente il tutto con una determinata risoluzione poi andando avanti abbiamo la misurazione della corrente quindi si sfrutteranno questi due ingressi corrente alternata da 20 milliampere fino a 10 ampere e correnti in continua che vanno da 2 milliamperi a 10 milliamperi quindi come potete vedere con una piccola strumentazione di pochi euro è possibile effettuare davvero abbastanza misurazioni invece adesso analizziamo velogeamente la seconda versione quella che questo qui è molto più costoso è un ht e permette di effettuare meno ovviamente misurazione di questo perché è dedicato prevalentemente alla misura di parametri elettrici e non elettronici quindi possiamo notare che questa tipologia di tester o multimetro permette la misurazione dei diodi la misurazione della continuità misurazione degli ohm tensione alternata tensione continua e corrente alternata però in questo caso sono presenti soltanto due ingressi l'ingresso comune quindi com per il nero è un ingresso che porta praticamente solo come potete vedere tensione e resistenza invece in questo caso come potete vedere tensione resistenza e frequenza la corrente voi potete dire come calcolo come effettua misurazione di corrente questa qui che una pinza amperometrica ovvero questa qui presente su questo pulsante basta pigiare su questo pulsante si aprirà questa pinza che praticamente andrà ad avvolgere il nostro cavo quindi comunque vedremo dopo una misurazione e farà una misura indiretta ovvero praticamente dopo aver pinzato quindi aver inserito il cavo in questa in questa pinza lui praticamente misurerà il campo magnetico prodotto da un cavo perché come ben saprete qualsiasi cavo o comunque filo o conduttore percorso da corrente genera un campo magnetico questo campo magnetico si andrà a concatenare in questa pinza ovviamente la strumentazione lo converterà in un valore in corrente qui quindi più il campo magnetico sarà grande più lui capirà che si ha un'intensità maggiore di corrente quindi questo qui permette di fare una misurazione in corrente indiretta indiretta cosa significa che la corrente non passa all'interno dello strumento cosa che invece avviene in questo qua infatti in questo caso qui bisogna stare un pochino più attenti perché bisogna spezzare il cavo e farlo passare tra i puntali quindi fare entrare la corrente da un puntale farlo uscire dall'altra quindi questo è una misura diretta perché la corrente passa direttamente nello strumento questo invece effettua una misurazione indiretta che dire orientativamente le impostazioni sono queste adesso passiamo subito ad effettuare delle misure inizieremo con l'analizzare delle misurazioni elettroniche allora adesso entriamo nel vivo delle misurazioni effetterò le misurazioni partendo dalla misura di continuità e dalla misurazione del diodo quindi se lettore impostato su continuità comunque a video vi metterò il simbolo per evidenziarlo meglio e quindi andiamo ad inserire i nostri puntali questi sono i puntali sono di categoria 2 quindi significa che hanno un isolamento fino a 1000 volt quindi anche in funzione della qualità dello strumento avremo ovviamente della strumentazione migliore quindi molto più sicura cosa dobbiamo fare? abbiamo detto che dobbiamo calcolare la continuità prima cosa da fare inseriremo il puntale nero quindi puntale nero sul com fate attenzione ad inserirlo fino in fondo altrimenti non si effettuerà la misura come vedete deve entrare perfettamente poi cosa dobbiamo misurare? dobbiamo misurare la continuità la continuità si misura in questo caso inserendo il puntale rosso su volt, ohm e hertz quindi andrò ad inserire il puntale rosso badando bene di inserirlo fino in fondo in questo ingresso qua quindi avremo com che non diciamo il puntale nero non lo sposteremo più il puntale rosso in questo caso ci serve per la continuità a questo punto valutiamo prima la continuità di un cavo o comunque di un qualcosa accendiamo il nostro strumento in questo caso viene visualizzato uno questo cosa significa? che attualmente non sta misurando nulla come vedete se io posso benissimo valutare già la continuità dei puntali stessi cosa posso fare? se lettore su continuità se io faccio toccare due puntali già come vedete suona e mi dà dei valori sul display la continuità viene evidenziata con un suono con un bip se in questo caso sempre da libretto di istruzione potrebbe variare in funzione della strumentazione comunque fin tanto che il valore di resistenza perché comunque questo qui comporta avere una resistenza i cavi stessi hanno una resistenza fin tanto che la resistenza è minore dei 50 ohm verrà segnalata con un bip quindi si avrà la continuità come vedete e non so se sentite i puntali comunque hanno già una continuità è buona norma fare anche questa misura prima di effettuare altre misure per valutare se effettivamente non ci sono dei danni all'interno dei cavi quindi prima di effettuare varie misure perché potreste anche uscire pazzi perché il puntale magari non funziona è rotto, spezzato, danneggiato quindi quello che vi consiglio di fare prima di effettuare qualsiasi misura è quella di vedere la continuità dei puntali quindi se lettore ovviamente se lo strumento lo permette se lettore su continuità prima cosa i cavi ipotizziamo in questo caso di voler valutare la continuità di questa pista come magari ben saprete comunque ho trattato anche la breadboard in un video dedicato la continuità nella breadboard è in questo caso in questa sezione qua verticale in questa sezione qua orizzontale ipotizziamo di voler valutare che ci sia continuità da questo pin qua fino a questo pin qua quindi cosa potrei fare mi aiuto magari inserendo dei piccoli cavetti di prova ad esempio seleziono all'estremità metto i due i due fili e quindi vado a calcolare praticamente a mettere in serie i due puntali cosa faccio su un'estremità un puntale sull'altra estremità vado a toccare con l'altro puntale è indifferente il colore in questo caso una misura di continuità quindi se io avrò continuità in tutto questo circuito il mio dispositivo dovrà segnalarmelo con un beep ovviamente sempre se la resistenza totale è minore di 50 ohm quindi se io andrò a toccare l'altra estremità del mio pin dovrò valutare se effettivamente è presente una continuità allora non so se sentite e vedete sul display suona quindi questo significa che c'è continuità in questo cavo c'è continuità in questa porzione di cavo in questa scusate porzione di breadboard e in più è presente continuità su questo cavo se io ad esempio faccio questa prova qui ipotizzo di scollegare questo questo filo qui e io magari vado a testare effettivamente se il mio circuito è presente una continuità cosa andrei a fare solito puntale sul mio primo terminale secondo puntale ipotizzate che questo magari non sia visibile quindi magari non era connesso bene oppure ipotizziamo di averlo messo sul meno sulla pista meno quindi di non essermi accorto di questo errore vado ad effettuare una misurazione e valutare se c'è continuità come vedete il display non segnala nulla e in più non si sente non si un bip quindi io avrò un campanello d'allarme nel capire che nel circuito che ho impostato non c'è una continuità vado a valutare il circuito e mi accorgo che il mio pin era diverso era sull'altra pista quindi lo vado a spostare ad esempio vado a rieffettuare la misura sempre con le estremità come vedete in questo caso il circuito è presente e quindi si ha una continuità in tutto il circuito a questo punto adesso andremo a vedere la misurazione di un diodo a questo punto lo strumento sempre lasciando il selettore diciamo in questa impostazione qua che permette quindi di valutare sia la continuità e sia il diodo il diodo come si calcola come si misura un diodo è un qualcosa del genere quindi avremo un anodo e un canodo come ben saprete il diodo permette il passaggio di corrente soltanto da un verso quindi da anodo verso catodo quindi nel momento in cui andrò a misurare quindi ad effettuare la mia misurazione dovrò valutare una determinata caduta di tensione su quel diodo che orientativamente per diodi normali si aggira all'incirca 0,6 volt però come si effettua la misura su un diodo ovviamente sull'anodo bisogna mettere una tensione positiva e sul catodo scusate una tensione negativa quindi quello che dovremmo fare è puntale rosso sull'anodo puntale nero sul catodo qui ho un diodo ipotizziamo di voler vedere valutare la continuità di questo diodo io ad esempio non vado diciamo viene di solito identificato il diodo con una banda io in questo caso senza effettuare una misura come prima prova effettuo ad esempio la misurazione tra questi due estremi quindi puntale rosso a sinistra e puntale nero a destra come vedete mi segnala 580 millivolt quindi all'incirca 0,6 volt come vedete ho beccato subito l'anodo e il catodo al punto giusto infatti un diodo in questo caso la banda perché qui c'è un segnetto identifica il catodo quindi la parte negativa magari in questo caso poteva essere non visibile e quindi avrei dovuto effettuare eventualmente un'altra prova nel caso in cui vado ad invertire i puntali quindi metto sull'anodo una tensione negativa e sul catodo una tensione positiva lo strumento ovviamente non rileva una continuità perché il diodo fa passare corrente soltanto da anodo verso catodo con una tensione positiva sull'anodo quindi uno qui potrebbe pensare che il diodo non è funzionante ovviamente bisogna stare attenti e effettuare sempre lo scambio in questo caso nella prima misura ho rilevato che in quel caso non mi dava nessuna visualizzazione sul display io rifaccio la seconda misurazione come vedete 586 millivolt quindi il diodo in questo caso è perfettamente funzionante ovviamente le misurazioni quando si effettuano su un circuito stampato quindi magari sono sono presenti diciamo il componente su un dispositivo bisogna in funzione della misura che si deve fare almeno rimuovere un pin per il diodo ovviamente non c'è bisogno perché mettendo all'estremità riesco comunque ad effettuare la misura però in alcuni casi è necessario staccare almeno un pin dalla breadboard o comunque dal PCB quindi per quanto riguarda questo selettore abbiamo visto la misurazione della continuità e la misurazione del diodo ricordatevi sempre che per misurare la caduta su un diodo quindi la continuità del diodo puntale rosso sull'anodo puntale nero sul catodo se questo non è evidenziabile tramite la linguetta perché magari si è cancellata effettuate gli incroci quindi andate ad occhio ad esempio nella prima misurazione se già rilevate un valore ok il diodo va bene nel caso contrario invertite per valutare se è presente una continuità nel caso in cui invertendo effettuando le due misurazioni il diodo dà sempre uno quindi sul dispreno non appare nulla il diodo è interrotto è bruciato nel caso in cui suona la suoneria quindi non rileva una tensione ma bensì il dispositivo suona significa che il diodo è in corto quindi comunque non funzionante ora passiamo a valutare la misurazione di una resistenza passiamo adesso a valutare il valore di alcune resistenze ovviamente i puntali rimangono come abbiamo visto prima puntale nero sul com puntale rosso su volt home hertz se lettore in questo caso lo sposteremo nella modalità home prima cosa da fare se non si conosce orientativamente la stima del resistore è partire ovviamente dal fondo scala più basso quindi in questo caso partirò con il selettore dalla prima impostazione ovvero 200 ohm in questo caso non conoscendo magari non ricordando il codice colore perché comunque le resistenze sono identificabili per mezzo di un codice colore ovviamente come vi dicevo è bene iniziare sempre dal basso male che va andremo a ruotare il nostro selettore fin quando non rileveremo un valore allora ipotizziamo di voler calcolare misurare non calcolare scusate il valore di resistenza di questi due resistori ad esempio ovviamente qui si può invertire non è un diodo quindi le misurazioni possono essere fatte in questo modo e in questo modo vado alle due estremità ovviamente cosa importante da ribadire prima di iniziare la misura di resistenze va fatta in assenza di tensione quindi il circuito che andate a misurare perché potrebbe essere ad esempio una resistenza su un circuito stampato deve essere effettuata la misurazione di resistenza ricordate bene a tensione diciamo senza con assenza di tensione quindi non deve essere il circuito alimentato perché potrebbe costarsi il dispositivo e in più avere un valore errato quindi ricordate bene misura in assenza di tensione con i due estremi andiamo a valutare la misurazione come vedete lo strumento non segnala nulla quindi mi sta a significare che il fondo scala è basso quindi probabilmente anzi no sicuramente il valore di resistenza ovviamente se la resistenza è funzionante è più alto quindi passo successivo metto su 2 kg a questo punto rieffettuo la mia misura come vedete il valore ovviamente è di 1,79 quindi 1789 ohm quindi un K è 7 un K è quasi 8 come avete visto è bastato semplicemente aumentare il fondo scala e il mio valore di resistenza ovviamente sempre se la resistenza è funzionante non è bugiata mi darà il mio valore allora io potrei ad esempio calcolare scusate misurare anche con un fondo scala più alto quindi io comunque riuscirei lo stesso ad effettuare la misurazione però come vedete la risoluzione è molto più bassa quindi la stima della misurazione è molto più bassa quindi dovete scegliere il selettore giusto in modo tale da avere una misura molto più accurata perché più aumenta ovviamente la portata del fondo scala è presente un errore come vedete qui già mi dà un arrotondamento ad 1,79 se io metto il selettore a 2K avrò il mio valore molto più accurato 1,789 quindi sarà molto più accurato quindi badate bene di scegliere il fondo scala giusto ad esempio andremo a valutare un altro resistore quindi andiamo a valutare questo torniamo sempre fondo scala a 200 comunque al minimo del vostro strumento effettuiamo la prima misurazione come vedete qui è già bastato il primo il primo selettore infatti la resistenza mi risulta essere 149 virgola qualcosa se ad esempio vado a mettere il selettore su 2K la risoluzione ovviamente è più bassa come vedete mi dà un arrotondamento come sempre 149 ohm però arrotondato qui invece con i 200 mi dà anche la virgola mi dice che è 149 virgola qualcosa quindi è importante scegliere sempre il fondo scala giusto ovviamente se vi serve una misura più accurata si può ovviamente misurare anche un un trimmer o comunque un potenziometro come vedete in questo caso ancora il fondo scala è basso vale ad aumentare come vedete riesco a rilevare il valore tutto qua per la misura di resistenza è molto semplice l'unica accortezza è ricordatevi sempre di effettuare le misure in assenza di tensione di scegliere il fondo scala giusto adesso continuiamo con le misurazioni adesso a questo punto andremo praticamente ad effettuare una misura del guadagno dei transistor quindi per quanto riguarda questo strumento quindi questo multimetro andrò a portare il selettore su HFE quindi quello che andremo ad utilizzare è questa sezione qua qui ho fatto un riassunto ho preso due transistor per valutarne il guadagno un BC556 che è un transistor BGT PNP e un BC548 che è un transistor BGT NPN questa è la configurazione quindi individuiamo ovviamente i vari pin visti dall'alto con la mezzaluna in questo caso così individuiamo i nostri pin quindi pin 1 2 e 3 il pin C risulta essere il nostro collettore quindi andiamo qui a valutare collettore base ed emettitore abbiamo visto che è un PNP quindi lo andremo ad inserire nella sezione qui a sinistra quindi qui praticamente c'è la configurazione ECBE quindi individuato il pin collettore base emettitore dovrò orientarli in questo modo vado ad inserirli come vedete se il dispositivo è funzionante mi darà un determinato guadagno questo PNP ha orientativamente un guadagno di 295 ad esempio se avessi sbagliato l'inserimento quindi invertendo il tutto inverto i i miei pin come vedete non mi dà nulla mi dà comunque pochissimo è ovviamente sbagliato è un guadagno che non è reale rimetto la configurazione giusta quindi mi devo comunque aspettare un valore abbastanza alto in questo caso ha un guadagno di 296 il nostro PNP quindi il BC 556 in questo caso specifico ha un guadagno orientativamente stimato di 295 quindi HFE di 295 ovviamente questo serve per effettuare dei calcoli che comunque non sto qui a dirvi qui serve ovviamente vi faccio vedere soltanto la misurazione adesso andremo a valutare la misurazione del BGT BC 548 NPN valutiamo sempre dai data sheet trovate su internet la configurazione dei pin in questo caso la configurazione risulta essere sempre vista dall'alto con la mezzaluna pin 1 2 e 3 a questo punto il pin a sinistra risulta essere il collettore vado nella parte sinistra e destra relativa alla strumentazione dove dice NPN trovo ricordo mi ricordo che il pin a sinistra è il collettore individuo dove si trova il collettore e vado ad inserire i miei pin lo metto bene in fondo come vedete questo il BGT è un guadagno molto molto più alto che si aggira all'intorno HFE di 656 ovviamente più tempo passa e più si stabilizzerà comunque orientativamente vi da una stima del determinato guadagno di quel determinato transistor questo ripeto è molto utile nel momento in cui bisogna effettuare dei calcoli o comunque per la saturazione oppure se si usa il BGT come amplificatore il guadagno è molto importante per effettuare vari calcoli comunque non entro nei dettagli di questa situazione qua ma comunque è giusto sapere come poter effettuare una misurazione come vedete man mano che mantengo il dispositivo il guadagno si è assestato a 643 quindi aspettate un attimino affinché il guadagno sia effettivamente reale in questo caso si è stabilizzato a 643 adesso andremo ad effettuare le misurazioni delle tensioni che sono quelle molto più utilizzate a questo punto andremo ad effettuare le misurazioni delle tensioni in particolare inizieremo con le tensioni in continua quindi si avrà praticamente la strumentazione configurata in questo modo puntali ovviamente sempre in nero sul com e il rosso viene ancora mantenuto sulla boccola di ingresso relativa a volt ohm e terze accendiamo il nostro strumento e settiamo il nostro selettore su ovviamente tensione in continua quindi una v con diciamo delle lineette tratteggiate allora ovviamente se sappiamo già la stima della tensione che dobbiamo misurare impostiamo il selettore ad esempio questo qui so che è una batteria da 9 volt quindi mi aspetto orientativamente una tensione di 9 volt io sto iniziando con 200 millivolt quindi so già che la misurazione a questo punto non andrà a buon fine però sempre per sicurezza iniziamo a valutare ad esempio la misurazione ipotizzando di iniziare dal selettore più basso una cosa che andrete a notare con la misurazione continua è che si avrà il segno quindi in funzione di dove inseriremo i puntali avremo se la misura è ad esempio è positivo con positivo e negativo con negativo noi rileveremo una misura senza segno se ad esempio si evidenzerà una misura con il segno negativo significa che i puntali vanno invertiti ma questo lo vedremo subito allora ipotizziamo di voler calcolare scusate misurare la tensione di questa batteria sappiamo che la parte più grande è negativo e il piccolino positivo quindi cosa vado a fare vado ad inserire i miei puntali ad esempio inserisco i miei puntali come vedete non appare nessuna misura perché ovviamente il fondo scala è basso questi sono 200 millivolt e io qui praticamente mi aspetto una tensione di 9 volt cosa faccio metto il selettore ancora su 2 volt come potete vedere ancora il mio fondo scala il mio strumento non rileva nulla vado con il selettore a una portata più grande quindi 20 volt a questo punto mi aspetto ovviamente di valutare una misurazione corretta quindi puntale rosso sul positivo puntale nero sul negativo come vedete la misurazione è 9,10 volt ad esempio se io avessi sbagliato nell'inserire i puntali quindi li inverto come vedete mi esce la stessa misura ovviamente 9,8 volt però con segno negativo il segno negativo sta ad identificare che ho sbagliato l'inserimento dei puntali perché ovviamente in corrente continua quindi misurazione in continua si ha praticamente la visualizzazione della polarità positiva e negativa cosa che non avviene ovviamente nella corrente alternata ipotizziamo di effettuare un'altra misura queste sono due batterie in un portabatterie in serie vado a valutare la mia corrente scusate la mia tensione un puntale sul rosso un puntale sul nero come vedete 2,40 volt sono diciamo mi sa che sono delle batterie un pochino scariche perché mi sarei aspettato almeno 3 volt quindi ipotizzate di togliere e valutare soltanto una singola batteria sulla portata di 20 volt io andrò ad esempio a valutare un determinato valore ad esempio in questo caso ho 1,40 volt con fondo scala 20 se io ad esempio questa batteria mi aspetto 1,5 volt posso scegliere il selettore più basso il fondo scala più basso per avere un'accuratezza maggiore quindi metto il selettore su 2 volt e quindi mi aspetto un'accuratezza maggiore come vedete la misurazione è 1,39 e qualcosa quindi mettendo con il selettore più basso ovviamente o una risoluzione migliore questo è buono farlo per avere misure più più affidabili poi ad esempio posso calcolare scusate sempre posso misurare varie varie batterie varie tensioni quindi sempre batteria al piombo come vedete i 2 volt qui non bastano questa è una batteria da 6 volt quindi fondo scala sempre sulla portata più alta e andremo a valutare la nostra tensione tensione che risulta essere 5,56 volt ad esempio se io scelgo la portata di 200 volt vedremo che la misurazione è meno accurata infatti mi dice 5,6 volt se io ritorno indietro rifaccio la misura 5,56 quindi è una misura molto più accurata se inverto ad esempio i poli come nel caso delle altre batterie risulterà una tensione ovviamente numericamente sempre la stessa però con valore negativo ripeto il valore negativo sta a significare che il puntale i puntali diciamo vanno invertiti a questo punto andiamo ad effettuare la misurazione su tensioni in alternata qui ovviamente bisogna stare attenti perché tensioni alternate sono molto più pericolose anche qui ovviamente se io vado a misurare tensioni di 200 o 1000 volt in corrente continua bisogna stare abbastanza attenti però di solito queste tensioni qua in continua non sono diciamo valori che riscontriamo spesso però i valori in corrente alternata si riscontrano ad esempio i 230 volt o i 400 volt quindi comunque bisogna stare molto attenti quando si effettuano le misure a questo punto passiamo a misurare la tensione alternata a questo punto per effettuare una misura di tensione in corrente alternata mi sono dotato di una spina con dei morsetti mammut finali in modo tale da avere praticamente la possibilità di inserire a contatto i vari puntali ovviamente la misura di tensione si fa tra due poli quindi fase e neutro in un sistema monofase si va a misurare sempre tra fase e neutro oppure in caso in altri casi tra neutro e terra e via dicendo comunque in questo caso vedremo una semplice misura ad esempio ipotizziamo di avere dei morsetti in una cassetta di derivazione vogliamo effettuare una misura in tensione cosa dobbiamo fare allora i puntali rimangono sempre com il puntale nero misura di tensione sempre il puntale rosso su volt ohm ed hertz accendiamo il dispositivo e portiamo il selettore nella sezione relativa alla tensione alternata ovvero una v con questa piccola ondicella allora in questo caso mi aspetto sapendo che è una tensione di rete mi aspetto una portata ovviamente di 230 volt quindi è inutile che inizio con il fondo scala di 2 volt sapendo che è una tensione di rete quindi mi porto subito con il selettore come potete vedere qui mi permette misurazioni di 220 200 e 700 volt essendo 230 volt orientativamente mi porto subito con il selettore in tensione in alternata 700 volt qui vi raccomando state molto attenti infatti viene anche segnalato sullo strumento che è una misura ad alta tensione di stare diciamo molto attenti perché qui è molto pericolosa a questo punto per effettuare la misura vado ad inserire la mia spina all'interno della cebatta qui vicino allora sono andato ad inserire la spina nella presa in questo momento è presente qua tra i morsetti una tensione di 230 volt orientativamente quindi state molto molto attenti come vi dicevo prima per la misura della tensione in corrente alternata ovviamente non c'è la necessità non vedrete la variazione di un segno perché ovviamente il segno cambia ovviamente il segno si dalle il segnale quindi la variazione è costante quindi il segno non serve non è identificato quindi vedremo soltanto il valore efficace della nostra onda sinusidale se io vado ad inserire tra fase quindi posso mettere anche il puntale nero sulla fase e il puntale rosso sul neutro viceversa è la stessa cosa l'importante è metterlo tra un filo di fase e un filo di neutro o comunque tra i due punti di potenziale diverso se io vado ad inserire il puntale qui state attenti sempre prima cosa mettere le mani così cosa che mi è successo di vedere cioè voi i puntali dovete tenerli sempre molto distanziati a questa distanza qua che non siano mai le dita vicine in prossimità della parte conduttiva quindi state sempre attenti a come maneggiate i puntali e state sempre attenti che mentre effettuate la misurazione non si toccino perché una cosa del genere implica un cortocircuito quindi una possibile rottura del dispositivo è comunque una sfiammata soprattutto con queste tensioni quindi state davvero molto attenti quindi ripeto tra fase e neutro vado ad inserire i miei due puntali state sempre attenti ripeto a non farli toccare come vedete questa è una tensione efficace è una tensione in corrente alternata è di 217 volt ovviamente se io faccio una misurazione sullo stesso polo cosa succede che io risulterò avrò una risultanza pari quasi a zero perché misura una differenza di potenziale e misurando una differenza di potenziale ovviamente se io ho 230 volt meno 230 volt la mia risultante è pari a zero invece in questo caso siccome il neutro ovviamente nel sistema monofase è quello a potenziale messo a terra quindi a potenziale teoricamente è zero la differenza di potenziale tra fase e neutro che andrò a misurare è di 215 volt quindi come vedete per effettuare una misurazione in corrente alternata basta mettere i due puntali ora vi farò vedere semplicemente e configurerò un attimo un interruttore e vi farò vedere come effettuare una misura ad esempio questo potrebbe essere una misura all'interno di una cassetta di derivazione magari vediamo come effettuare una misurazione nel caso in cui si ha la necessità di testare una tensione su un interruttore magnetotermico o magnetotermico differenziale quindi distacco un attimo una corrente e configuro l'interruttore e effettuiamo subito la misura ipotizziamo adesso di voler effettuare la misurazione su un all'interno ad esempio di un quadrato elettrico quindi questo sto simulando un interruttore in questo caso è un interruttore della Siemens un magnetotermico C25 bipolare ho inserito la mia rete in ingresso e voglio settare ad esempio il funzionamento del mio dispositivo quindi cosa andrò a fare andrò a vedere se effettivamente il mio circuito viene sezionato quindi a valle del mio interruttore dovrei trovare o meno tensione in funzione se il mio dispositivo è alzato e abbassato prima cosa quindi attiviamo nuovamente il dispositivo il multimetro selezioniamo il selettore sempre a 700 volt in corrente alternata perché comunque è sempre una tensione di rete i puntali sono rimasti come erano prima cosa andiamo a fare prima cosa andiamo a vedere se effettivamente sul nostro dispositivo è presente una tensione quindi a monte del dispositivo andiamo a inserire i nostri puntali come vedete c'è una piccola corrente di una tensione di dispersione perché nella ciabatta io non ho attivato il mio dispositivo ad esempio adesso ho inserito il mio pulsantino quindi ho dato tensione quella era una tensione di dispersione che è presente nella ciabatta infatti mi portava 49 volt e adesso vado a rifare la mia tensione a monte del dispositivo come vedete ho la tensione di rete quindi io avrò i miei 220 volt in questo caso per testare il dispositivo quindi vedere se effettivamente riesce a sezionare il mio impianto come vedete il selettore dell'impianto è abbassato cosa faccio vado a valle del mio dispositivo e vado ad inserire i puntali a valle del dispositivo come vedete la misurazione risulta essere 0 io a questo punto per valutare se il mio dispositivo è funzionante vado ad armare l'interruttore qui ovviamente state sempre attenti alle viti che sono ovviamente in tensione adesso vado ad azionare quindi a mettere in on il mio interruttore e valutare se ho diciamo una presenza di tensione vado a valle del dispositivo inserisco i miei puntali come vedete riscontro la mia tensione se io adesso vado a sezionare il mio impianto come vedete è 0 quindi con questa misurazione misurazione di tensione posso tranquillamente banalmente valutare il funzionamento almeno il sezionamento di un determinato impianto quindi magari io non sono sto effettuando devo effettuare della manutenzione quindi non sono sicuro che effettivamente il mio impianto è stato sezionato quindi io non sono sicuro se vale effettivamente a lavorare sull'impianto che sia o meno in tensione quindi magari io vado a cambiare una presa una spina scusate una presa all'interno di una cassetta portafrutto mi aspetto che abbassando l'interruttore sto tranquillo ma in realtà vi consiglio sempre di effettuare una misurazione in tensione o anche comunque con il cercafase in modo tale da essere tranquilli nell'effettuare la manutenzione perché io potrei aspettarmi ad esempio di essere tranquillo abbassato l'interruttore io dico sono tranquillo ma lui potrebbe ad esempio essere non funzionante magari i contatti all'interno sono attaccati perché è successo un qualcosa si è rotto si è guastato io vado a mettere le mani nella cassetta portafrutto e ci rimango lì perché poi effettivamente non ho effettuato una misurazione quindi è buona norma un buon tecnico un buon elettricista va a controllare prima di mettere le mani ovviamente effettua una misura in tensione questo è ovviamente l'uso prevalente che si fa di questi dispositivi misure di tensioni e di correnti sono prevalentemente quelle misure utilizzate molto spesso perché effettivamente uno un tecnico va a valutare se è presente una tensione o meno quindi io vado ho sezionato l'impianto prima di mettere le mani al mio impianto vado effetto una misura vedo che non c'è tensione sto tranquillo e quindi posso lavorare in sicurezza questo è un piccolo consiglio che vi do e fai da te ovviamente però prima di mettere le mani effettuate sempre una misurazione o con il tester o con il classico cerca fase che abbiamo già visto in un altro video questo qui ad esempio come vedete individuo ovviamente soltanto la fase non lo vedete ma si sta accendendo la lampadina non lo vedete ad esempio io con il mio cerca fase posso andare a valle del filo di fase e valutare se la lampadina si accende però siccome stiamo parlando di multimetri voi misura in tensione per sicurezza effettuate sempre questa misurazione a questo punto andiamo avanti con effettuare le altre misurazioni quello che andremo a vedere adesso e che ci propone il dispositivo qui è la misurazione della temperatura in gradi centigradi per mezzo di questa sezione qua relativa alla scritta temp come facendo prima il tutto lo si può fare per mezzo di una termocoppia ovviamente non tutti i multimetri hanno questa opzione potrebbe non esserci o comunque potrebbe essere anche diversa la termocoppia questa è una termocoppia di tipo k andiamo ad accendere il dispositivo selezionare con il selettore la sezione relativa alla misurazione in gradi centigradi vado ad inserire la mia termocoppia e questa sezione qua è relativa questa pallina qui è relativa alla misurazione della temperatura quindi io potrei ad esempio monitorare qualsiasi temperatura se non erro questa qui forse può arrivare fino a mille mille gradi centigradi ma non sono sicuro comunque sempre valori in gradi centigradi molto elevati infatti di solito la uso siccome ho un piccolo saldatore non è regolabile digitalmente la temperatura cosa faccio attendo metto il selettore e attendo un pochino e poi vado a monitorare con questa termocoppia la temperatura ad esempio se è arrivato a 200 250 gradi e così via in modo tale di avere ovviamente sempre una stima perché non ho una stazione saldante che mi stabilizza la temperatura però orientativamente ho una stima di cosa mi aspetto in funzione o comunque ormai ho mappato che orientativamente mettendo il selettore in quel punto ho una determinata temperatura che ovviamente può variare un attimino anche dalla temperatura ambiente però permette di fare una stima questa qui basta appoggiare sul determinato punto a contatto o comunque nelle vicinanze del punto da monitorare e riusciamo tranquillamente a gestire la temperatura in questo caso senza toccare nulla sta rilevando orientativamente una temperatura sui 23 24 gradi ad esempio se metto la termocoppe su un metallo freddo dovrebbe riscontrare un abbassamento di temperatura comunque ancora non non è così si infatti è arrivato al 21 comunque questa qui serve semplicemente ad effettuare la misurazione di temperatura ovviamente dipende dal vostro strumento probabilmente non è presente questa modalità ora passiamo a valutare potevo farlo prima comunque mi sono dimenticato però devo reimpostare il circuito in alternata perché andremo a misurare la frequenza ovviamente non ho in questo momento un segnale da poter visualizzare però possiamo tranquillamente banalmente valutare la tensione di rete quindi andrò mettere il selettore in questa sezione qua e valuteremo la frequenza della rete elettrica quindi riprendo diciamo la spina che avevo precedentemente allora per la misura di frequenza praticamente in questo caso non riesco a farvi vedere per bene una misurazione perché ho provato ad effettuare una prova e non riesco a rilevare del tutto la 50 hertz perché lo strumento ha una portata diversa ad esempio se io adesso ho collegato alla rete e inserisco i due puntali all'estremità dei borsetti di ingresso dovrei teoricamente rilevare 50 hertz ma siccome qui come dal libretto mi porta risoluzione più alta queste diciamo queste più piccole non le rileva bene quindi avrei dovuto avere un segnale un pochino più ad alta frequenza per evidenziare una misurazione giusta qui dal libretto mi dice che per la misurazione della frequenza se la portata se il segnale è nell'ordine dei 2 kilohertz avrà una risoluzione di 1 hertz con una precisione che vada più o meno il 2% fino ai 5 cifre se invece ha il segnale nell'ordine dei 20 kilohertz avrà una risoluzione di 10 hertz e una precisione di più o meno 1,5% e più o meno 5 cifre la sensibilità è 200 millivolt efficaci in ingresso e non maggiore di 10 volte efficaci comunque non riesco ad effettuare con la misurazione normale la misurazione di rete almeno questo dispositivo non mi permette di farmelo magari se avesse avuto un generatore di segnali sarei riuscito a valutare anche un'onda quadra o comunque avrei dovuto fare un circuitino con un NE555 fare un frequenzimetro un qualcosa che adesso non riesco a fare comunque per effettuare la misura ve lo dico ovviamente selettore su hertz in questo caso porta una portata di 20 kilohertz quindi segnali fino a 20 kilohertz lui dovrebbe con quelle risoluzioni che vi ho detto poco fa misurarle cosa si fa? si va praticamente con i puntali all'estremità del componente dove va misurata ad esempio la nostra frequenza che potrebbe essere anche una resistenza quindi con i puntali alle due estremità vado ad attestare e valutare la frequenza circolante in quella determinata porzione di circuito a questo punto adesso mi dispiace che non ho potuto fare una misura più accurata ma mi sono reso conto adesso che non misura bene la frequenza di rete comunque avrei dovuto avere un generatore di segnali e magari valutare segnali un pochino più alti a questo punto passiamo adesso a valutare la misura dei condensatori adesso adesso praticamente passiamo con il misurare i condensatori anche se sinceramente non è molto utile almeno questo strumento qua per misurare i condensatori nel senso che la portata è fino a 20 microfarad quindi da 2 nanofarad a 20 microfarad il range è molto molto ristretto però per i condensatori in questo range si riesce ad avere una misurazione per fare questa misurazione cosa bisogna fare vabbè accendiamo il dispositivo in questo caso per effettuare la misurazione si ha la necessità nel mio dispositivo qui nel mio multimetro di inserire questo socket lo si va a inserire qui su CX e successivamente si vanno ad inserire i condensatori allora ho preso dei condensatori elettrolitici per fare delle prove ad esempio in questo caso questo qui vediamo cosa ci porta poi ve lo dico dopo di quanto si tratta andremo ad inserire le due estremità in questo caso non fa nulla la polarità dovrebbe misurarli lo stesso perché comunque come sapete i condensatori elettrolitici hanno una polarità allora l'ho inserito quindi dovrebbe essere inserito nel modo corretto mi aspetto una misurazione nell'ordine dei micro allora sul dispositivo scusate sul componente è riportato un micro farad io do sul selettore orientativamente infatti adesso si è assestato si è caricato quindi è arrivato al valore giusto praticamente ho messo siccome so la stima del condensatore vado a scegliere il selettore nella zona opportuna io ho rilevato un micro farad in effetti 1,60 micro farad in effetti il condensatore è di un micro farad fino a 20 micro farad posso benissimo misurarli una cosa importante che dovete fare prima di inserire un componente o comunque un condensatore all'interno di una strumentazione è accertarvi che quel determinato condensatore sia praticamente scarico come lo si può scaricare banalmente facendo un controcircuito con un cacciavite quindi se ad esempio è carico potrebbe fare una piccola scintilla oppure mettere una piccola resistenza a attendere un attimo di effettuare la scarica perché ad esempio se è un condensatore che arriva anche a 25 100 volt potrebbe essere carico e prima cosa potreste farvi male e successivamente potreste inserire una tensione di 100 volt nel dispositivo quindi potrebbe ad esempio bruciare il dispositivo quindi prima di effettuare una misurazione relativa dei condensatori ricordatevi sempre di accertarvi che siano scarichi li scaricate con un semplice cortocircuito con una resistenza o anche con una lampadina a incandescenza però ripeto con un semplice cortocircuito ovviamente state attenti perché vedrete se la tensione è alta vedrete una piccola scintilla comunque ovviamente riproviamo ad effettuare io ovviamente li ho già scaricati effettuiamo un'alta misurazione vediamo se riesce a effettuare la misurazione penso proprio di no perché il valore è un pochino più alto rispetto alla portata vediamo se riesce ad effettuare la misurazione dove il fondo scala al massimo allora il condensatore siccome realmente è più basso della portata riesce a misurarlo però in questo caso lui era di 22 microfarad per valutare ad esempio i condensatori ci potrebbe venire in aiuto un piccolo dispositivo che ho già fatto vedere in uno dei miei video ad esempio ipotizziamo e vediamo di quanto si è sbagliato il dispositivo mi dava 19 virgola qualcosa microfarad vediamo se questo strumento lo misura in un modo più dettagliato lui riporta sulla serigrafia 22 microfarad e infatti più o meno ci siamo dai lui ha una stima migliore e mi dà un un SR di 0,38 un valore in microfarad di 21,78 e un VLOS di 0,8% allora per quanto riguarda il condensatore ovviamente più dovrebbe uno scegliere uno strumento dedicato in modo tale da poter avere una stima migliore in questo caso ovviamente giusto per misurazioni veloci ma non lo userei più di tanto ora passiamo alle ultime due misure che sono diciamo delle misure di corrente effettueremo la misura di corrente alternata in modalità diretta a inserzione diretta e successivamente per mezzo della pinza amperometrica che abbiamo visto prima effettueremo una misurazione di una corrente in modalità indiretta quindi preparo il tutto e effettuiamo le ultime due misurazioni condensate allora dopo aver visto la misurazione dei condensatori ora passiamo a una misura molto utilizzata in particolare in particolare vedremo la misurazione della corrente in tensione in corrente alternata cosa dobbiamo fare prima di tutto in questo caso vedremo soprattutto prima la misura diretta quindi la corrente circolerà all'interno del dispositivo e andrà ad alimentare il carico carico che adesso ho impostato ma comunque vi farò vedere subito la configurazione che ho fatto per effettuare la misurazione diretta prima cosa settiamo il nostro multimetro quindi prima di tutto cosa facciamo è una misura in corrente ovviamente una misura in corrente alternata quindi posizioniamo il nostro selettore nella sezione relativa alla corrente alternata questa procedura vale ovviamente anche per la corrente continua però adesso io vi farò vedere ed illustrare soltanto una misura in corrente alternata ma è la stessa cosa è lo stesso procedimento va solo diciamo cambiato il selettore quindi ho una lampadina di incandescenza la mia spina e simuleremo e andremo a misurare la corrente che circola nel momento in cui la lampadina sarà accesa ci portiamo ovviamente in una portata di 10 ampere perché comunque questa è una lampadina di 100 watt incandescenza quindi mi aspetto che 200 millivolt la scala 200 millivolt sia notevolmente superata quindi io metto direttamente il selettore in corrente alternata 10 ampere a questo punto bisogna però spostare il nostro puntale rosso il puntale nero rimane sempre su com il puntale rosso va praticamente spostato da v quindi tensione resistenza hertz va messo nella portata 10 ampere perché 10 ampere perché ovviamente è una corrente un pochino grande perché essendo una lampadina da 100 watt mi aspetto una corrente maggiore di 200 milliamper perché la portata massima sull'ingresso milliamper di 200 milliamper quindi io vado siccome so mi aspetto comunque una corrente molto più alta so già che devo inserire il puntale rosso sull'ingresso 10 ampere fate attenzione ad inserirlo per bene quindi ripetere lo vogliamo abbiamo settato il dispositivo in corrente alternata con il fondoscala a 10 quindi a 10 ampere il puntale nero rimane su com il puntale rosso viene spostato dalla tensione alla corrente con portata 10 ampere questa procedura si poteva fare anche per misurare piccole correnti in circuiti elettronici ma ad esempio nel caso in cui ho la necessità ad esempio di valutare la corrente circolante in un diodo ad esempio per avere una risoluzione molto più raffinata ovviamente non scelgo la portata 10 ampere ma scelgo la portata 1000 ampere per avere un'accuratezza migliore essendo una misura di corrente molto più piccola ma in questo caso avendo una portata abbastanza grande 10 ampere a questo punto cosa devo fare qui ho la mia classica praticamente la mia classica spina che utilizzo di solito quello che dobbiamo fare è inserire in serie il nostro dispositivo perché questa è una misura diretta come vi stavo specificando prima quindi la corrente circolerà all'interno del dispositivo cosa succederà questa è la mia linea di alimentazione ho il mio morsetto come vedete il mio morsetto di fase questo qui il morsetto di neutro la fase va su questi mammut che praticamente me li sono riportati in questo modo quindi il circuito la corrente farà così uscirà dalla fase entrerà in questo morsetto qui da questo morsetto entrerà nel puntale nero all'interno del puntale nero arriverà nello strumento dallo strumento uscirà andrà nel puntale rosso ritornerà su questo morsetto su questo mammut dove è collegato il filo di fase della lampadina il filo di neutro ovviamente si chiuderà con il morsetto di neutro quindi il circuito la corrente circolerà tra i morsetti il dispositivo per poi andare ad alimentare la lampadina quando ovviamente questa configurazione permetterà la lettura diretta ad inserzione diretta si dice della nostra corrente a questo punto prima di dare alimentazione accendiamo il dispositivo ricordate di stare molto attenti perché potrebbe se i collegamenti non sono fatti bene potrebbe esplodere anche il dispositivo comunque succedere qualcosa potreste comunque danneggiarlo quindi state anche ben attenti qui perché qui ad esempio ci sono i morsetti a vista io ho dovuto fare questa configurazione per praticamente riuscire ad inserire in serie il mio il mio multimetro comunque a video uscirà lo schema molto semplificato di come effettuare i collegamenti anche in altre varie configurazioni che abbiamo visto prima vi farò apparire comunque un semplice schema soprattutto nella misurazione di tensioni e correnti a questo punto cosa vado a fare vado a dare stiamo attenti e vado a dare alimentazione quindi accendo la mia jabbat in questo momento è presente una tensione non sta circolando corrente in quanto io la lampadina attualmente ancora è spenta a questo punto mi segnala 0,01 che non è nulla come corrente vado ad accendere la mia lampadina come vedete non so se si vede è presente una tensione scusate una corrente di 0,38 ampere quindi 380 mille ampere come potete ben capire è molto più alto di 200 mille ampere quindi se avessi messo qui per fare questa misura il fusibile si sarebbe saltato perché 200 mille ampere massimo io richiedo una corrente maggiore quindi se avessi messo a mille ampere per fare questa misura il fusibile si sarebbe bruciato ecco perché ho scelto la portata 10 ampere come vedete il dispositivo mi sta misurando 0,38 ampere quindi la corrente sta circolando all'interno del dispositivo per chiudersi nella lampadina e tornare poi sul neutro allora a questo punto cosa possiamo fare per valutare la corrente con la misurazione indiretta dobbiamo ovviamente prendere la nostra pinza amperometrica e cosa fare fare banalmente settare il dispositivo in ampere alternata questa qui lo setto lo accendo cosa devo fare devo semplicemente andare a prelevare la mia corrente da uno dei cavi quindi vado a pinzare a mettere all'interno il mio cavo per prelevare il campo magnetico in questo caso il dispositivo non so se lo vedete mi sta segnalando 0,2 ampere invece la misurazione in inserzione diretta è molto più accurata perché lei la pinza amperometrica pur essendo di qualità migliore ovviamente questa qui è prevalentemente per misure di corrente molto più alte quindi la risoluzione sarà molto più bassa questa ovviamente fa una misura più accurata essendo sia una misura indiretta sia un dispositivo per misurazioni elettroniche però orientativamente da una stima di quanto è la corrente all'interno del nostro circuito ripeto questa qui ovviamente da 0,2 ha una risoluzione un pochino più bassa però era giusto per farvi vedere come si effettua la misurazione indiretta quindi rileva il campo magnetico circolante all'interno del nostro cavo e va a dare il nostro valore in corrente sul display quindi diciamo che questa è un pochino più pericolosa invasiva come misura perché come avete visto io devo comunque tagliare il circuito nel caso in cui è presente una linea ed inserire diciamo in serie il mio dispositivo invece questa qui con la pinza imperometrica è molto più semplice perché molto semplicemente non è invasiva infatti basta pinzare comunque basta mettere il mio cavo all'interno di questa pinza e lui rileverà mi darà il valore di corrente ora spengo un attimino come vedete spegnendo il mio carico nella misurazione indiretta e anche sia indiretta che è diretta il valore risulta essere pari a zero questi schemi qua ovviamente vi appariranno a monitor che dire vi ho fatto vedere orientativamente le misure che si possono effettuare con un multimetro sia di corrente di tensioni soprattutto quelle che vengono maggiormente utilizzate sono misure di tensione misure di correnti magari per quanto riguarda il tester la misura di continuità anche questo qui può fare una misura di continuità come vedete la misura dei riodi e ripeto in funzione di cosa dovete fare e di cosa vi serve il multimetro dovete scegliere l'apparecchio specifico banalmente se voi dovete misurare delle semplici batterie delle pile oppure fare una misurazione ogni tanto sulla carica della macchina tranquillamente un multimetro semplice preso al brico da 10 euro può bastare avanzare se avete ad esempio necessità maggiori come ad esempio cominciare a misurare con più accuratezza dei resistori delle tensioni delle correnti come in questo caso in inserzione diretta bisogna ovviamente andare con una fascia maggiore se ad esempio avete la necessità di fare prevalentemente misurazioni elettriche quindi siete degli elettricisti ovviamente gli elettricisti non vanno ad utilizzare tutta questa strumentazione qua questi testeri qua di solito hanno questi multimetri qua perché permettono di fare misurazione di tensioni e di correnti in modo veloce sia in corrente alternata prevalentemente in corrente alternata per quanto riguarda gli impianti elettrici misura di continuità e quindi vengono di solito utilizzate di più dagli elettricisti invece questi per quanto riguarda gli hobbysti dell'elettronica sono molto più specifici che dire spero di riuscire a prendere quello con l'oscilloscopo integrato che ho visto da un po' di tempo anche su youtube e in giro su internet se mi decido di prenderlo vi farò vedere successivamente come utilizzare quel dispositivo lì che dire spero di avervi dato delle informazioni utili se avete delle domande da fare fatele tranquillamente nei commenti che io proverò a darvi una spiegazione più semplice possibile che dire se il video vi è piaciuto mettete un like se vi va di tenere aggiornati su quello che faccio iscrivetevi al canale alla prossima grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.